Nel quarto ordine di arresto i giudici di Milano dicono che qui ci sono una sessantina di miliardi di cui Craxi aveva anche la personale disponibilità. Pochi giorni fa sul giornale Di Pietro ha detto Craxi tiri fuori il bottino, 30 miliardi. Adesso non voglio una polemica su persone, ma questi soldi dove stanno? Esistevano dei fondi su conti esteri del Partito Socialista, sui quali sono stati versati dei fondi sempre dall'amministratore del partito, e non c'è mai stato nessuno che abbia dichiarato una cosa diversa, che debbono essere al loro posto, salvo quelli che sono stati spesi. La verità è un'altra, è che nei confronti del Partito Socialista si è scatenata un'aggressione e una criminalizzazione di una violenza tale che ha fatto sì che il Partito Socialista sia stato letteralmente distrutto, in parte si è distrutto da solo, e per il resto è stato letteralmente distrutto. Io spero che qualcuno faccia giustizia un giorno o l'altro. Mi scusi, Onorevole Craxi, queste decine di miliardi, 30, 60, quanti sono? Tanto quanti sono, secondo lei? Nei conti esteri? Io non ho mai avuto esattamente il rendiconto. Le ripeto, non c'è nessuno che mi abbia mai detto che io ho versato, o ho detto di versare. Nemmeno prelevato? No, le spese, il segretario del Partito era in condizione di autorizzarle per statuto, articolo 47, quindi di spese ne sono state fatte in tante e in tante direzioni. Sono state fatte spese per il mantenimento della politica che era costosa, anche se meno di quello che si dice. Sono state fatte spese in direzione di altri partiti della politica italiana, di giornali della politica italiana. Cioè lei ha finanziato partiti e giornali? Non io, le ripeto, l'amministrazione, il Partito Socialista ha dato contributi a molti soggetti nazionali ed internazionali. Abbiamo svolto un'attività in questo senso molto intensa. Le ripeto, ciò che rimane e ciò che deve rimanere deve essere al suo posto. Ma quanto, secondo lei? E quindi, secondo me, secondo me, io quanto esattamente non le saprei dire. Un ordine di grandezza? Potrebbe anche essere superiore a quello che lei ha detto.